Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, vediamoci dentro col video. Oggi voglio parlarvi di un caso diverso. Molti di voi mi hanno fatto notare che la violenza non ha genere, ed è vero. Ci sono donne aggressive, violente, manipolatrici. Oggi quindi sono qui per raccontarvi la storia di William, un ragazzo che ahimè ha subito un'aggressione che avrebbe potuto porre fine alla sua vita. Il protagonista di questo video, come già avrete capito, è un ragazzo, si chiama William, ha 24 anni e vive attravagliato nel Bresciano. È un ragazzo estremamente buono, nasce il 7 febbraio del 1986. Ha una sorella più grande di 5 anni, suo padre è un maresciallo dell'esercito, mentre sua madre fa la casalinga. A prendersi cura del piccolo William c'è la sorella maggiore, Tatiana. William cresce in una famiglia accudente, aperta verso il prossimo, che ne plasma positivamente il carattere. È frutto di una famiglia che lo cresce con amore, rispetto ed educazione. Sono davvero persone di cuore. Casualmente, quando è adolescente, incontra in un parco quello che diventerà il suo miglior amico, Dario Baresi. Appena maggiorenne, William lascia la scuola. Non vuole più passare il tempo con la testa sui libri. Preferisce andare a lavorare, guadagnarsi dei soldi. Insomma, vuole essere indipendente. In questo periodo, tra l'altro, l'amicizia con Dario si fortifica sempre di più. Il ragazzo attende sempre le 5.30 del pomeriggio, perché a quell'ora William stacca da lavoro. Dopodiché, il ragazzo lo raggiunge. A William e Dario non serve chissà che per divertirsi. Si limitano ad ascoltare la musica, a chiacchierare e a girare in macchina senza meta. Sono serate piene di spensieratezza, quelle che Dario e William vivono insieme. Vanno spesso in discoteca, conoscono tante ragazze e vivono parecchi rapporti disimpegnati, che iniziano e finiscono in pochi giorni. William quindi fa la vita che fanno molti altri ragazzi della sua età. C'è il lavoro, ci sono gli amici, le risate, i locali, le discoteche. A William piace molto fare sport, va spesso in palestra e ama curare il suo aspetto. Tutto per William sembra andare benissimo, poi un giorno conosce su Facebook una ragazza di nome Elena Perotti. I due iniziano a sentirsi, fanno diverse videochiamate. Poi un pomeriggio si sentono ed effettivamente si rendono conto che casualmente sono molto vicini. Di conseguenza decidono di incontrarsi. Tra i due in effetti è amore a prima vista. Il suo migliore amico Dario Baresi viene a scoprire ben presto che William ha una nuova fiamme. E lo capisce anche solo dal suo atteggiamento. Si comporta in modo strano, è più silenzioso del solito. Dario quindi gli chiede spiegazioni e William gli risponde che ha conosciuto una ragazza su Facebook. E gli piace davvero moltissimo, anche perché si sono già visti. William a questo punto informa anche i suoi genitori, che ovviamente non hanno alcun problema. William non è più un ragazzino e i suoi genitori non mettono proprio becco nelle sue relazioni. È un ragazzo amato, ma piuttosto indipendente. Così la frequentazione tra i due ragazzi prosegue. È il 2010 quando William ed Elena iniziano a vivere una relazione che si infiamma in fretta. Il ragazzo vorrebbe avere una storia con lei. E in effetti arriva una sera in cui William va in discoteca. È con i suoi amici, ma sa che dovrebbe esserci anche Elena. Continua quindi a guardarsi attorno per cercarla, ma non la nota. Alla fine è Elena a trovare lui. Così i due passano tutta la serata a ballare e a baciarsi appassionatamente. Elena è determinata. Sa quello che desidera. Così travolge William senza un attimo di esitazione. William è affascinato e sorpreso. Non ha mai conosciuto una ragazza come lei prima. Elena non ha paura. È pronta a vivere tutto quello che le si presenta con forza e tenacia. Inoltre con William è molto dolce, è carina e riesce a fargli provare qualcosa in più. William dunque si affeziona ancora di più ad Elena. Sente che c'è di più rispetto alle sue relazioni passate. Sono sentimenti forti, esaltanti, che William vive con tutto se stesso. A questo punto lui ed Elena diventano una coppia. Elena è una ragazza con un carattere molto forte. Nasce il 31 agosto del 1986. La sua mamma è una ragazza madre e appena viene alla luce la piccola ha solo 20 anni. Elena cresce da sola, è una ragazza con un vissuto estremamente difficile. Perché sua madre non solo è sola ma ha anche parecchi problemi. Prima di tutto ha problemi di dipendenza ma ha anche disagi mentali. A solo i 6 anni Elena assiste a diversi tentativi di suicidio di sua madre. E per due volte riesce anche a salvarla. Quando la donna prova a buttarsi dalla finestra. Però ahimè in un'altra occasione Elena non riesce a fermare sua madre. Vede sua madre che si getta da un cavalcavia ma fortunatamente non viene a mancare. Elena quindi scende dal cavalcavia per raggiungerla. Le sta vicino, la veglia e chiama i soccorsi. Arriviamo ai 15 anni di Elena che vive l'abbandono di sua madre. Che viene definitivamente ricoverata in una casa di cura per i suoi problemi mentali. Elena alterna periodi in cui vive con i nonni ad altri in cui viene data in affido temporaneo. Intanto la ragazza studia, va al liceo classico e si dimostra anche molto molto brava. La ragazza cerca nella scuola la sua impossibile normalità. È una ragazzina che lotta contro tutto e tutti. Tenta in tutti i modi di sfuggire dallo stigma che le viene attaccato addosso. Ossia, essere la figlia della pazza. Elena reagisce moltiplicando gli sforzi in tutto ciò che fa. Infatti è sempre stata una ragazza molto dotata. Ha sempre ottenuto brillanti risultati in ogni campo. Sia nello studio, ma anche nel lavoro. Infatti nessuno mantiene Elena durante gli studi. È lei che si trova un lavoro part time? Per potersi comprare l'abbonamento mensile del Pullman? Per poter fare merenda a scuola? Per poter fare qualche uscita? Insomma, Elena dà sempre il massimo in tutto ciò che fa. A 16 anni nella sua vita riappare il padre. Che tra l'altro l'aveva abbandonata quando praticamente era in fasce. L'uomo si era fatto un'altra vita con un'altra donna. Quindi Elena l'aveva visto poco o niente. Ora però è molto malato. Ha da anni il diabete. Che ormai l'ha portato alla cecità e alla paralisi. Elena quindi decide di prendersi cura di suo padre. E lo fa per ben 6 anni. La ragazza prova un sentimento scisso verso suo padre. Perché da una parte sente l'obbligo morale di accudirlo. Dall'altra lo detesta per averla abbandonata fin dalla nascita. Quando il padre di Elena viene a mancare, la ragazza sta già con William. E la stessa sera, mentre sono in un bar assieme, Elena dice a William Sai, finalmente è morto mio padre. Ma sinceramente non me ne può fregar di meno. Elena vive due vite parallele. Nel suo passato ci sono un padre e una madre che le hanno sottratto prima l'infanzia e poi l'adolescenza. Nel presente c'è la sua disperata ricerca di normalità. La determinazione a reinventare per sé, anche a costo di qualche bugia, una vita e una famiglia normale. Elena racconta a William che ha un maneggio, è appassionata dei cavalli, sta bene economicamente. Insomma, non ha alcun problema. Il punto è che Elena mente, mente sempre. Mente su tutto. Tutto ciò che racconta si rivela una bugia. Elena ha 20 anni ed è in lotta contro tutto e tutti. Dissimula le sue ferite con un atteggiamento sicuro di sé. La ragazza con questo vissuto ovviamente porta con sé tutti i traumi che derivano dalla sua infanzia e dalla sua adolescenza. Ossia la mancanza di una famiglia. Questo probabilmente è il suo bisogno principale. Ha bisogno di avere un affetto vero e stabile che non ha mai avuto. Questa situazione influenza e decide tutte le sue azioni future. Quando Elena incontra William finalmente sente di aver raggiunto un frammento di normalità. Dunque William, dopo aver conosciuto Elena, perde letteralmente la testa per lei. È molto diversa da tutte le ragazze che ha conosciuto. Lei tira di box, ha i cavalli. È una persona libera, indipendente e William ne è completamente conquistato. Dopo la dipartita e il ricovero di suo padre, Elena si trasferisce in una casa accanto a quella di William. Per il ragazzo sono giornate piene di entusiasmo. Pare che nella sua vita stia andando tutto per il meglio. Ha degli amici fidati, è innamorato. E anche il lavoro prende una piega decisamente positiva. Perché il ragazzo decide di aprire un bar tutto suo. Finalmente il suo sogno si avvera. Ha sempre sperato di aprire un locale prima o poi. Ama l'ambiente e ama stare a contatto con persone che hanno voglia di divertirsi e di far festa. Tutto dunque sembra andare per il meglio. Ma è proprio in questo periodo che le cose iniziano a cambiare. Aprire un bar per William significa inventarsi un mondo e abitarlo. Un mondo pieno di amici con cui condivide più ore al giorno. Lavorare e divertirsi è una combo perfetta per un bravo ragazzo di 26 anni. L'inaugurazione del bar per lui è l'inizio di una nuova vita. Ma se l'inaugurazione del bar per William è un sogno realizzato, per Elena invece è una situazione pericolosa. Popolata da rapporti ambigui e amicizie che distraggono William da lei. William non deve dare attenzione alle altre ragazze. Elena è davvero tanto gelosa, ma William vede solo lei. È davvero innamorato. Questo atteggiamento di Elena però William non lo interpreta come dovrebbe. Elena spesso si mette in mezzo, gli parla, gli dice delle cose che non le vanno bene. Ad esempio, William non deve ballare con altre ragazze. E ahimè William, al posto di sentire i campanelli d'allarme, si sente importante. Elena vuole che William stia solo con lei, vuole che passi del tempo solo con lei. Cosa che ovviamente il ragazzo non può fare. Ha il suo gruppo di amici con cui si trova molto bene e che di certo non vuole perdere. Ma secondo Elena, quei suoi amici lo allontanano da lei. Non vanno proprio bene. Sono tutti scapestrati. Tutti pronti a portare William tra le braccia di qualche altra ragazza. Mentre William deve stare solo con lei, solo in quel caso sarebbe stato bene e al sicuro. Dario Baresi, il migliore amico di William, dice chiaramente che lui e la sua compagnia di amici hanno capito fin da subito che c'era qualcosa che non andava. In quel periodo William aveva limitato le sue uscite e si vedevano sempre più di rado. Quelle poche volte che usciva era sempre attaccato al telefono. Perché Elena con la sua gelosia ossessiva lo chiamava e gli mandava messaggi in continuazione. Voleva sapere ogni sua singola mossa. Elena è morbosa, vede possibili tradimenti ovunque. Quindi pretende di sapere tutto, ogni minimo dettaglio. William subisce tutto ciò e forse pensa anche di doverla rassicurare. Crede in effetti che se lei è così insicura forse è a causa sua. Forse è lui che le dà motivo di essere insicura. William così decide di dare ad Elena la password per accedere alle telecamere di sorveglianza del suo bar. In questo modo la ragazza può controllare continuamente cosa stia facendo. Ma si sa, ognuno cerca ciò che vuole trovare. Ed Elena non cerca l'evidenza dell'infedeltà di William. Ma l'ambiguità di ogni suo gesto è l'avvicinamento con una ragazza che ha assunto al bar. Elena non vuole che quella ragazza si avvicini a lui. Perché se si avvicinano, secondo il suo parere, è una scusa per strusciarsi. Quindi Elena inizia ad andare al bar di William a fare scenate. Urla dietro alla ragazza che lavora con William. La insulta. La giudica poco seria. Le dice che non deve permettersi neanche di posare lo sguardo su William. Quest'ultimo ovviamente si trova in seria difficoltà e non può far altro che cacciare Elena dal bar. Elena ha accettato che William aprisse un bar. Ma ora questa idea non le va più tanto al genio. Perché il ragazzo deve dare solo retta a lei. Elena vuole isolare William. Nei comportamenti di Elena ci sono già tutti i segnali per capire che si tratta di un sentimento ossessivo e pericoloso. Ma William sottovaluta tutto. Elena poi sa anche come gestirlo. Basta una carezza per tranquillizzarlo. I due vivono davvero a poche case di distanza. Ma William rimane sempre più spesso a dormire da Elena. Il ragazzo è innamorato. Ma si rende conto che Elena è reticente nel raccontare il suo passato. Inoltre gli racconta sempre mezze verità che vengono smentite di giorno in giorno da amici e conoscenti. Questi fatti insinuano in lui sospetti e dubbi. Elena ha sempre nascosto il suo passato. William si fida poco. E l'occasione per indagare sulla vita relazionale di Elena arriva ben presto. La ragazza è a farsi la doccia ma ha dimenticato il computer acceso con l'accesso a Facebook. Quindi William scorrendo tra i messaggi privati di Facebook scopre che Elena non è poi così fedele. Ho notato che talvolta queste gelosie nascono proprio dai tradimenti. Se la tua partner pensa che tu la tradisca, perché lei non può tradire a sua volta? Anzi, è proprio il suo modo di vivere la relazione che fa dubitare. Se lei è la prima a tradire, perché non dovrebbe tradire anche lui? William a questo punto affronta Elena, ma quest'ultima si infuria, gli urla dietro. Come si è permesso di spiare il suo computer? Elena arriva addirittura a picchiarlo. Spesso la ragazza risulta manesca. E è successo più volte che Elena mettesse le mani addosso a William. Quindi a quest'ultimo non resta che una scelta. Lasciarla. Il ragazzo però ogni volta che torna a casa dai suoi genitori, passa sotto lo sguardo di Elena, che inizia a perseguitarlo in ogni modo. Tolta a tassa di messaggi per una settimana intera. Ed Elena a questo punto si rende conto che non ha più il controllo di William. La ragazza gli scrive almeno un messaggio ogni tre secondi. Ora ragazzi, provate a pensarci. Pensate a voi stessi che scrivete e mandate un messaggio ogni tre secondi. È inquietante. Ovviamente Elena tormenta William anche mentre è a lavoro. Tanto che in quel periodo William risulta un po' assente. Insomma, lavoro in quel periodo non dà assolutamente il massimo. E fortunatamente la sua famiglia è lì che gli dà una mano, che lo supporta. Nonostante l'assedio di Elena, William si nega. Non ci vuole più stare con lei. E per Elena l'idea dell'abbandono è insopportabile. Ha preferite che si porta dietro da tutta la vita. Non sa come avvicinare a sé William. Fino a quando invia a William una foto di un test di gravidanza positivo. E lì tutto cambia. Il ragazzo è chiaramente impaurito quando vede questa foto. Quindi decide di chiamarla per parlare e definire un minimo la situazione. C'è di mezzo una gravidanza. Quindi William decide di scendere a dei compromessi. Dunque accetta di tornare insieme ad Elena. Sperando che i suoi atteggiamenti nei suoi confronti cambino nel tempo. I due ragazzi si trovano davanti la responsabilità di diventare adulti. Devono prendersi cura di una nuova vita. Diventeranno quindi una famiglia. Ma in me questo è solo un sogno di due ragazzi fragili e confusi. Che dura malapena qualche giorno. Infatti Elena dice a William che la sua è una gravidanza extrauterina. E quindi ha perso il bambino. Per William questo è un duro colpo. Piange tantissimo. Sta davvero molto male. Elena in realtà usa l'espediente della gravidanza per tenere William attaccato a sé. Quando gli comunica che la gravidanza è stata interrotta spontaneamente. William mette da parte tutti i suoi dubbi e le crede. Quindi i due tornano di nuovo insieme. Chiuso l'episodio della gravidanza. William ed Elena incominciano a vivere la vita di sempre. Segnata da grossi dubbi e reciproche incertezze. Alcune settimane più tardi. Dario prende da parte William al bar. Nel suo bar. E gli dice che... E è andato a letto con Elena. Aggiunge che non ha neanche dovuto fare troppa fatica. William ovviamente si arrabbia da morire col suo amico. Il quale dice che ha fatto quel gesto solo per dimostrargli quanto fosse sbagliata Elena per lui. E in effetti Dario è da tempo che mette in guardia William. Gli dice in continuazione che quella ragazza lo tradisce. Ma William si rifiuta di credergli. Non vuole credergli. William si infuria e dice a Dario di sparire dalla sua vita. Intanto Elena da casa vede nel suo computer le telecamere presenti al bar. E si rende immediatamente conto che c'è qualcosa che non va. A questo punto William torna a casa e affronta Elena di nuovo. Si limita a guardarla e a dirle. Ma proprio con il mio miglior amico. Elena si rifiuta di ammettere cosa sia successo davvero. Dice che sono tutte palle. Che il suo amico si è inventato tutto per fargli intendere che lei è una poco di buono. Insomma nega con tutte le sue forze. E poi aggiunge. Ehi guarda che devi credere a me. Non a lui. William la guarda e si limita a dire. Io con te non ci sto capendo più un cazzo. Me ne torno a casa mia. E così Elena di nuovo si trova sola. Questa sembra una storia tra mille altre storie di ragazzi. Ma sotto la superficie in Elena c'è un fiume ribollente di rabbia. Che cerca nel rapporto con William un risarcimento impossibile. Ossia quello per l'amore negato quando era una bambina rifiutata dalla madre e dal padre. William non può immaginare quanto distruttive, potenti e pericolose possano diventare le emozioni di Elena. Accompagnate sempre dal rifiuto ossessivo dell'abbandono. Elena sviluppa una vera e propria ossessione per William. Non accetta che l'abbia lasciata. Quindi William cerca di allontanarsi sempre di più. Ma Elena inizia a perseguitarlo. Lo segue ovunque. Arriva a piazzarsi davanti a casa di William. Per poi camminare avanti e indietro lungo la strada aspettando il suo ritorno. Dopo una settimana di stalking la ragazza una mattina si impone con William. Lo vede salire in macchina. Si affretta quindi a scendere da casa sua. Per poi catapultarsi sul parabrezza della sua macchina. Per un'ora buona William le ripete. Elena, devo andare. Per piacere. Ma la ragazza non si sposta di un millimetro. Dice a William. Io da qui non mi levo. Se vuoi andare mi porti con te. E a questo punto William non ha un'altra scelta che farla andare con lui. La sera del 31 dicembre 2011 accade qualcosa che cambierà per sempre la vita dei due ragazzi. Infatti nei mesi precedenti hanno continuato a frequentarsi, a fare le cose senza impegno, senza fedeltà. E in quella notte di fine anno a causa di un ritardo Elena fa di nuovo un test di gravidanza. E questa volta è positivo. Elena è davvero incinta. Quindi Elena che cosa fa? Beh, fa la stessa cosa che aveva già fatto in precedenza. Fotografa il test di gravidanza e manda quella foto a William. La reazione di quest'ultimo però non è come quella della prima volta. A questo punto William lascia definitivamente Elena. E le dice che quando il bambino verrà alla luce farà il test del DNA. Se William risulterà essere il padre del bambino, non le farà mancare nulla per crescerlo. Ma non vuole rincominciare una relazione con lei. A Elena alla fine interessa usare quel bambino come mezzo per fare in modo che William torni da lei. Dice e ridice che il padre di suo figlio è William. Ma di fatto nessuno ne ha mai accertato la paternità. La ragazza però continua a voler ossessivamente riconquistare William. E ci prova in tutti i modi. Dopo alcuni mesi infatti Elena incinta si presenta al bar gestito da William. E nel bar c'è anche la madre di William. Elena quindi entra, appoggia le mani sul bancone, guarda la madre di William e urla Ma che nonna sei? Ben presto tutti i parenti di William si avvicinano e urlano in coro Esci da questo bar! Elena esclama ma che vi ha fatto questo bambino? A questo punto c'è William che interviene e porta fuori dal bar Elena. William a questo punto si convince ancora di più di non voler più tornare con lei. Ripete che se il bambino risulterà suo non avrà problemi a prendersene cura Ma rimettersi insieme ad Elena è tutta altra storia E non vuole assolutamente riprendere la relazione con lei. Successivamente la ragazza si piazza mezz'ora fuori dal bar per poi andarsene. Di fronte al rifiuto compatto della famiglia di William La ragazza non si rassegna e scarica la sua rabbia Contro gli oggetti che appartengono ai familiari e agli amici di William. Elena riga le macchine, buca le gomme E a questo punto William non sa più come contenerla. Non riesce ad affrontare quello tsunami che si è rivelata essere Elena William non ce la fa più. È esausto ed è spaventato dagli atteggiamenti della sua ex ragazza Quindi cerca di mettere se stesso, la sua famiglia e i suoi amici più cari Al riparo da possibili attacchi William quindi in gran segreto decide di trasferirsi da una sua amica Nella nuova casa, lontano dallo sguardo di Elena William sembra ritrovare una normalità che aveva perso E con gli amici di sempre c'è molta allegria Quella serata si prospetta bellissima. Elena invece è sola Ogni desiderio di normalità e famiglia È perso. Tutto ciò che desiderava Si è rivoltato nel suo contrario Intanto William conosce una nuova ragazza di nome Angela E per lui inizia una nuova storia Iniziano a frequentarsi E William ovviamente spiega la situazione Che c'è stata con la sua ex fidanzata Angela capisce i problemi di William E decide di provarci. William a questo punto Trova davvero serenità Sta bene, è felice. Intanto però Elena viene a sapere che William ha iniziato a frequentare una nuova ragazza Dunque la situazione non fa altro che peggiorare Elena non vede più William passare sotto casa per andare dai suoi genitori Ma conosce gli amici di William Dunque non ci mette molto a scoprire dove William va da dormire Quindi Elena cosa fa? Scatta una foto della macchina Parcheggiata di William E la invia All'amica che lo ospita Così la spensieratezza di quella festa Torna per William a trasformarsi In un incubo Quando William vede quella foto si preoccupa tantissimo L'ha trovato Quando il mattino dopo esce di casa Si ritrova nuovamente l'auto completamente rigata È stanco ormai, è esasperato Quindi chiede un consiglio a suo padre Il padre di William gli consiglia di rivolgersi ai carabinieri I carabinieri invitano William a fare una denuncia Cosa che William però non fa È preoccupato ma non pensa che possa avvenire qualcosa di così tragico Insomma, pensa di poter gestire la situazione Dopo l'episodio della macchina rigata Elena non smette mica di seguire William E una sera In discoteca Lo vede con la sua nuova ragazza Elena già lo sapeva Ma vederli insieme è tutta altra storia Questo fa da detto natura la sua rabbia Elena vive la nuova relazione di William Come una profonda ingiustizia nei suoi confronti Così si confida con un amico Che peraltro aveva anche frequentato Che fa palestra con lei Dario Bertelli L'uomo ha già un'indole parecchio violenta Ed Elena dal canto suo fa di tutto per farlo infuriare il più possibile Elena racconta a Dario che William non la faceva uscire di casa Che la maltrattava Le metteva le mani addosso Gli fa credere in un certo senso che l'avesse sedotta e poi abbandonata Dopo aver visto William con la sua nuova fidanzata Elena sparisce un po' dalla sua vita Cerca per una settimana Non si fa più sentire Non lo perseguita Non lo chiama Non lo aspetta sotto casa Questa però è solo una calma apparente Elena come appureranno i carabinieri Qualche settimana prima dell'aggressione a William Fa una ricerca dettagliata su internet Sulle conseguenze che hanno diversi tipi di acido sulla pelle umana Ci sono anche delle ricerche su come potenziare l'effetto corrosivo di queste sostanze Contemporaneamente alla ricerca su internet Elena si reca anche presso la casa in cui William va a dormire in quel periodo E scatta delle foto che poi verranno ritrovate nel suo telefonino Quelle foto le scatta per studiare il luogo e progettare l'aggressione Quante via di fuga ci sono? Quante entrate ci sono? Elena fa un vero e proprio sopralluogo tecnico Intanto il rapporto tra William e la sua nuova ragazza Angela Volge al termine molto presto Angela l'ha tradito con il suo ex ragazzo William quindi se ne va e torna a casa dai suoi genitori E vede come al solito Elena che lo osserva dalla finestra A questo punto William fa un grande grande errore Sale a casa di Elena E ci fa le cose Per fare una ripicca alla sua nuova fidanzata Angela Elena da un lato cerca gli effetti degli acidi sulla pelle su internet Ma dall'altro spera sempre di poter tornare con William Intanto quest'ultimo ben presto si veste Vuole tornare a casa dai suoi genitori Elena prova a chiedergli di rimanere con lei William però non le risponde e continua a vestirsi Elena quindi scatta Ed esclama Resta con tuo figlio William si alza La guarda e le dice Lo sai come stanno le cose? Io non ti ho mai detto bugie Io Elena di nuovo sola incomincia a piangere come una disperata È arrabbiata e non riesce più a trattenere la sua furia Si convince sempre di più che deve attuare la sua vendetta Elena quindi si procura un liquido corrosivo Fa un miscuglio con vari acidi e ci riempie un secchiello Ha preso la sua decisione Deve solo scegliere il giorno in cui compiere la sua troce vendetta Non è certo stato un atto istintivo questo ma ben premeditato Infatti 11 ore prima dell'aggressione a William Alle 2 di notte Elena scambia con il suo complice alcuni messaggi Sono tutti messaggi in codice Ma ci sono due messaggi in particolare Che rendono chiare le loro intenzioni L'uomo scrive Mi sento dalla parte della ragione Nessuna guerra Solo giustizia Elena risponde Ormai è guerra Passo per le 21 La notte del 19 settembre 2012 I due complici si appostano aspettando che William rientri a casa Dorme da una sua amica che ha un parcheggio sotterraneo I due dunque si nascondono lì sotto William arriva bello tranquillo attorno alla mezzanotte Parcheggia la macchina Scende quando improvvisamente sente qualcuno Che lo colpisce alla testa Da dietro Quello è Dario Il complice di Elena William dunque cade a terra Perde sangue dalla testa L'uomo gli va dietro le spalle Mettendogli un braccio attorno al collo In modo da zittirlo William non può chiedere aiuto Lo trascina Lo tiene in ginocchio Mentre una persona incappucciata Gli rovescia in testa Un intero secchiello di acido I due aggressori a questo punto scappano Però William ha alzato lo sguardo E ha visto gli occhi dietro il passamontagna E non ci sono dubbi Quegli occhi sono di Elena William però non ha tempo di rifletterci Sente un bruciore intenso Si guarda un attimo e vede che non ha più i vestiti addosso Si sono sciolti L'unica cosa che vede è nero Si vede tutto nero L'unica cosa che gli viene in mente di fare è correre verso la porta di casa della sua amica Poi inizia a bussare E' terrorizzato che possono tornare indietro per ucciderlo Appena l'amica apre la porta e lo vede esclama Ma che è successo? William ribatte Presto presto chiudi la porta chiave Poi corre in bagno Pensa di buttarsi sotto la doccia Ma si blocca Si gira Apre il rubinetto del lavandino E prova a mettere la mano sotto il getto d'acqua Sentendo ancora più bruciore Così capisce che farsi una doccia non è esattamente la cosa migliore da fare A questo punto William si inginocchia sul tappeto del bagno davanti al lavandino E inizia a fare dei respiri profondi Per tentare di non svenire Intanto la sua amica già ha chiamato l'ambulanza Che accorre immediatamente Appena accorrono gli operatori del 118 Si rendono subito conto della gravità della situazione Cercano quindi di tenere William vigile Iniziano a chiedergli cosa si è successo Il suo nome Il nome della via in cui abita Il suo numero civico Il nome dei suoi genitori Il nome di sua sorella È importante che il ragazzo rimanga vigile e non svenga A ridosso dell'ambulanza arrivano anche i carabinieri Allertati anch'essi dall'amica di William Mentre l'ambulanza trasporta d'urgenza William in ospedale Vengono avvisati anche i suoi genitori Che lo raggiungono immediatamente La mamma, il papà di William Così come sua sorella Vedono un ragazzo irriconoscibile È tutto nero ed è tutto gonfio in faccia Incinta di otto mesi Elena ha portato a termine la sua vendetta Senza pietà Ha sfigurato per sempre il volto e il corpo di William Progettando con freddezza un'aggressione atroce E mentre William è in ospedale Che lotta tra la vita e la morte Gli inquirenti si recano a casa di Elena Ma non trovano nessuno Quindi provano a chiamarla Ma sentono il suo telefono che squilla da dentro la casa Agli agenti non resta che chiamare i vigili del fuoco Per entrare all'interno dell'abitazione E in effetti gli inquirenti notano che sul tavolino della sala Sono presenti due suoi telefoni E un suo computer La mattina successiva Elena si presenta spontaneamente in caserma Con un alibi per la notte Lei dichiara che quella notte ha dormito a casa dei suoi nonni materni I nonni materni d'altro canto però la smentiscono Dicono che loro proprio non l'hanno vista Neanche per sbaglio Quando i carabinieri chiedono a Elena se può scoprirsi le braccia Notano delle bruciature compatibili con degli schizzi di acido Mentre Elena è trattenuta in caserma gli inquirenti controllano i messaggi che ha sul cellulare Ed individuano il complice che ammette immediatamente la sua responsabilità È così che Elena e il complice vengono immediatamente arrestati In ospedale i genitori, la sorella e gli amici sono accanto a William giorno e notte Dopo 20 giorni purtroppo ha un arresto cardiaco La febbre è altissima E quindi viene trasportato in elicottero in Liguria a Genova Qui subisce oltre 20 interventi Dopo alcuni mesi dall'aggressione con l'acido Inizia il processo a carico di Elena e del suo complice I giudici sono chiamati a decidere su un punto fondamentale Per qualificare il tipo di reato e quindi di conseguenza determinare la pena La domanda qui è una Gli imputati volevano uccidere William? Oppure procurargli solo delle lesioni? La risposta a questa domanda avrà conseguenze processuali diverse Per il calcolo della pena nella sentenza di condanna Accuse e difesa si scontrano sulla tesi del tentato omicidio e della premeditazione L'avvocato Carolina Magnani vuole che sia data la giusta riqualificazione giuridica del reato E per lei quello subito da William è stato un tentato omicidio Perché William ha rischiato di morire Era in prognosi riservata Inoltre il consulente tecnico inizia a puntare sul quantitativo della sostanza Lanciata addosso a William che poteva davvero risultare mortale La difesa sostiene che Elena debba essere giudicata per il reato di lesioni gravissime Ed è così che accade Elena e il suo complice vengono condannati per il reato di lesioni gravissime Con l'aggravante della premeditazione e dell'uso di sostanze corrosive Condannano di conseguenza gli imputati a 12 anni di reclusione In appello la pena viene ridotta a 8 anni Mentre in un altro procedimento Elena viene condannata a 1 anno e 8 mesi per stalking Ora però torniamo a William William che lotta ogni giorno per accettare la propria condizione Non è semplice accettarsi Né guardarsi allo specchio tutte le mattine Non vedersi O vedersi male Infatti William ha quasi perso la vista Riesce solo a vederci da un occhio Ha rinunciato a tante cose Tante passioni Partendo dalla palestra Continuando con il bar A William piaceva tantissimo guidare di notte Perché lo rilassava Tutte queste cose normalissime William ora non le può più fare Questa situazione l'ha fatto chiudere in se stesso Si è rinternato in casa E posso capire anche perché non poteva uscire alla luce del sole Cioè doveva uscire totalmente bardato Perché non poteva esporsi proprio ai raggi solari Ad oggi si è sottoposto a 41 interventi Da quando è accaduta questa tragedia William ovviamente ha dovuto chiudere il suo bar L'aveva aperto da circa 8 mesi E gli era costato 100.000 euro Ma lui e la sua famiglia sono stati costretti a svenderlo per 13.000 euro Perché in quel momento erano necessari dei soldi Nell'arco degli anni ha dovuto far fronte a tantissime spese Perché lo Stato non passa nulla Se non gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale Per non parlare della vicenda processuale William spiega che Elena risultava nullatenente Dunque per legge ha dovuto per forza pagare la parcella al suo avvocato Che sarebbe tenuto a saldare il condannato In questo caso la condannata Il costo legale non era affatto irrisorio E ci credo Il ragazzo si è trovato obbligato ad aprire una raccolta fondi Il caso è diventato mediatico e fortunatamente è riuscito ad ottenere ciò che gli serviva Inoltre se vogliamo mettere i puntini sulle i Elena si è limitata a fare tre mesi di carcere Per poi scontare la sua pena in comunità Oggi ovviamente è una donna libera Ho letto in più fonti che si è sposata e ha avuto due bambini Un maschio e una femmina Suo marito, o per meglio dire suo ex marito Si chiama Francesco Remolato E la loro relazione si è conclusa nel 2019 Perché? Beh perché a questo punto è stata Elena a subire angherie e perseguizioni Aveva anche richiesto un'ordinanza restrittiva Che il suo ormai ex marito Non aveva rispettato Stando a ciò che dice la donna Francesco ha tentato di aggredirla E le ha distrutto la macchina Quindi Elena ha chiamato le forze dell'ordine E Francesco è stato condannato ai domiciliari Elena ha lottato anche per riottenere i suoi figli Il primo ha avuto nel 2016 con il suo ormai ex marito Conosciuto durante il periodo di detenzione in comunità Che il tribunale dei minori le aveva tolto Recentemente la donna ha ottenuto la responsabilità genitoriale Della secondogenita Rebecca Che è tornata a frequentare seppure in presenza di un educatore Da poco William ha lanciato un nuovo appello tramite la sua pagina Facebook Chiamata Io sto con William Dove da anni racconta la sua storia E sensibilizza sul fatto che non solo le donne possono essere vittime di violenza William ha lanciato una petizione Una richiesta d'aiuto per raccogliere 6.000 euro Necessaria ad un intervento della ricrescita della barba William dice Quanto ci tengo da 1 al 100? Beh 100.000 Perché questa peluria nasconderebbe le cicatrici che ho sulle guance Mi consentirebbe di guardarmi allo specchio Quasi con gli occhi di prima Sicuramente la violenza sulle donne è una piaga mondiale Sociale Lo sapete sono sempre in prima linea per raccontarvi queste storie Ma oggi sono qui per ribadirvi che la violenza non ha genere Gli uomini non sono immuni dalla violenza fisica e psicologica Da parte di moglie e compagne Ci sono donne gelose, possessive, violente Il caso di William ne è una dimostrazione C'è un'ultima cosa che vorrei dire William si identifica come una vittima di serie B Proprio perché è stato colpito da una donna E io sono qui per dire che no William non è una vittima di serie B William è una vittima Punto E la sua storia merita di essere raccontata Detto questo ragazzi Io ho finito di parlare in questo video Spero che questo caso possa essere stato di vostro interesse Conoscevate questo caso? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti Io nel frattempo vi mando Un bacione Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video Mi raccomando fate i bravi Continuate a mangiare le verdure Ma soprattutto Fate ciò che vi rende felici E prendetevi cura di voi Ciao ragazzi Ciao ragazze Ciao ragazzi